A settembre e per tutto il mese il sito geospeleologico di San Marchesa a Nugis sarà nuovamente al centro di una nuova campagna di scavi. Il cantiere di lavoro, il terzo, in ordine di tempo, si svolgerà nella grotta di su Montigedu a Quacadda e sarà guidato dall'Università degli Studi di Cagliari con il supporto dei soci dello Speleo Club Nugis che gestiscono l'area e il museo allestito nell'ex miniera. A dare notizia, in occasione di uno degli eventi della rassegna ai confini tra Sardegna e Giaz, tenutosi di recente nel sito, è stato proprio il sindaco di Nugis, Romeo Ghilleri. Un riavvio dei lavori che, secondo quanto dichiarato dal primo cittadino, riveste un'importanza non solo dal punto di vista archeologico e turistico ma anche di prospettiva occupazionale, tanto che, al proposito, il Comune sarebbe pronto a chiedere ulteriori risorse finanziarie alla Regione e al Ministero. Ora, a San Marchesa, dove un tempo si estraevano zinco, piombo e rame, oltre al sito geologico, è presente un piccolo museo dove sono esposte importanti testimonianze geologiche costituite da rocce, minerali, fossili, utensili vari utilizzati in geologia e speleologia.